Questo è stato approvato per la prima batteria, Fiorini, Vincitivi, Niccoglini e Rosa, gli avretti impegnati sul percorso in questa fase di qualifica, che è una fase tremale di qualifica che abbiamo in caldo del tempo, sono i 36 rilagati su tutte le batterie, la cedola, è la fase 21-1 Il tempo di decremento che ci consegna è di 20.76 Parti adesso la prova per la terza batteria Come è anticipato la categoria ragazzi In termini di questa gara Non evitate a portarsi dei giudici A delle concorrenti Pronto al gazzetto predisposto per tutti gli atleti Intanto entrando nel merito di questa gara Siamo assistendo la valuta finale Siamo ad un tempo inificativo Siamo a un tempo inificativo Siamo a un tempo inificativo In questa istante A finale di questa metri sprinta Ragazzi 12 maschine Atleti che in forma compasta Stanno i cento di pulmai In questo momento Per la sprinta E per un plusino Ci vediamo lavorato a finale Allora arrivo sul traguardo Allora in questo istante E si chiude Questa prova